Nella civiltà, così come è fatta, un po' da Dio, molto dall'uomo, gli interessi si combinano, si aggregano e si amalgamano in modo da formare una vera roccia dura, seguendo una legge dinamica pazientemente scrutata dagli economisti, che sono i geologi della politica. Quei pensatori che si raggruppavano sotto denominazioni diverse, ma che si possono tutti indicare col titolo generico di socialisti, tentavano di forare quella roccia e di farne scaturire la viva sorgente dell'umana felicità. I loro lavori abbracciavano tutto, dalla questione del patibolo a quella della guerra. Al diritto dell'uomo, proclamato dalla rivoluzione francese, aggiungevano il diritto della donna e quello del fanciullo. Nessuno si stupirà se per varie ragioni non trattiamo a fondo, dal punto di vista teorico, i problemi sollevati dal socialismo. Ci limiteremo a indicarli. Mettendo da parte le visioni cosmogoniche, le fantasticherie e il misticismo, tutti i problemi proposti dai socialisti possono essere sintetizzati nei due principali. Primo problema, produrre la ricchezza. Secondo problema, ripartirla. Il primo contiene in sé il problema del lavoro, il secondo quello del salario. Nel primo si tratta dell'impiego delle forze, nel secondo della distribuzione dei beni. Dal buon impiego delle forze risulta la potenza pubblica. Dalla buona distribuzione dei beni risulta la felicità individuale. Per buona distribuzione si deve intendere non una distribuzione uguale, ma equa, poiché la prima uguaglianza è l'equità. Da queste due cose combinate, potenza pubblica al di fuori, benessere individuale al di dentro, risulta la prosperità sociale, cioè a dire l'uomo felice, il cittadino libero, la nazione grande. D'Inghilterra risolve il primo di questi due problemi. Essa crea magnificamente la ricchezza, ma la ripartisce male. E questa soluzione, completa soltanto da un lato, la conduce fatalmente a questi due estremi. Ricchezza mostruosa, miseria mostruosa. Tutti i beni ad alcuni, tutte le privazioni agli altri, vale dire al popolo. Il privilegio, l'eccezione, il monopolio, la feudalità nascono dal lavoro stesso. Situazione falsa e pericolosa, che appoggia la potenza pubblica sulla miseria privata e fa sì che la grandezza dello Stato metta radici nelle sofferenze degli individui. Grandezza mal costruita, nella quale si combinano tutti gli elementi materiali e non entra alcun elemento morale. Per essere ben risolti, i due problemi vogliono essere risolti insieme. Le due soluzioni vogliono essere combinate e formarne una sola. Se risolvete soltanto il primo dei due problemi, avrete Venezia, avrete l'Inghilterra. Avrete come Venezia una potenza artificiale o come l'Inghilterra una potenza materiale. Sarete il cattivo ricco. Per i rete per un atto di violenza, come morì Venezia, o per bancarotta, come cadrà l'Inghilterra. E il mondo vi lascerà morire e cadere, perché lascia cadere e morire tutto quanto è solo egoismo, tutto ciò che non rappresenta per il genere umano una virtù o un'idea. Ben inteso che con le parole Venezia, Inghilterra, non intendiamo parlare dei popoli, ma delle costruzioni sociali, delle oligarchie sovrapposte alle nazioni, non delle nazioni medesime, le quali hanno sempre il nostro rispetto e la nostra simpatia. Venezia, popolo, rinascerà. L'Inghilterra, aristocrazia, cadrà. Ma l'Inghilterra, nazione, è immortale. Ciò detto, proseguiamo. Risolvete i due problemi. Incoraggiate il ricco e proteggete il povero. Sopprimete la miseria. Ponete termine all'ingiusto sfruttamento del debole da parte del forte. Mettete un freno all'iniqua gelosia di chi sta in cammino contro colui che è arrivato. Proporzionate matematicamente e fraternamente il salario al lavoro. Fate che l'insegnamento gratuito e obbligatorio partecipi allo sviluppo dell'infanzia. E fate della scienza la base della virilità. Educate le intelligenze, pur occupando le braccia. Siate nello stesso tempo un popolo potente e una famiglia d'uomini felici. Democratizzate la proprietà, non già abolendola, ma rendendola universale, in modo che ogni cittadino, senza eccezione, sia proprietario, cosa più facile che non si creda. E in poche parole, sappiate produrre la ricchezza e sappiate ripartirla. Solo così avrete insieme la grandezza morale e sarete degni di chiamarvi la Francia. Ecco quello che al di fuori, al di sopra di alcune sette che fuorviavano, diceva il socialismo. Ecco quello che cercava nei fatti e abbozzava nelle menti. Sforzi ammirabili, sacri tentativi. Queste dottrine, queste teorie, l'inattesa necessità per l'uomo di Stato di tener conto dei filosofi, alcune confuse evidenze intraviste, creare una politica nuova in accordo col vecchio mondo senza troppo contrasto con l'ideale rivoluzionario, una situazione nella quale bisognava logorare la faietta e difendere Polignac, l'intuizione del progresso che traspariva nelle sommosse, le camere e la piazza, le competizioni da equilibrare intorno a sé, la fede nella rivoluzione, forse una certa eventuale rassegnazione nata dalla vaga accettazione di un diritto definitivo e superiore, la volontà di rimaner fedele alla propria razza, lo spirito di famiglia, il sincero rispetto del popolo, la propria onestà. Ecco tutto quello che preoccupava Luigi Filippo, quasi dolorosamente, e in certe ore, per quanto forte e coraggioso, lo primevano sotto la difficoltà di essere re. Sentiva sotto i suoi piedi una disgregazione formidabile, che però non era polverizzazione, giacché la Francia era più che mai la Francia. Oscuri nuvoloni coprivano l'orizzonte. Un'ombra strana che proveniva dalle collere e dai sistemi, guadagnando sempre terreno, si stendeva sugli uomini, sulle cose, sulle idee. Tutto quanto era stato frettolosamente soffocato si agitava e fermentava. Talvolta la coscienza dell'uomo onesto riprendeva la sua respirazione. Tanto malessere c'era in quell'aria, nella quale i sofismi si frammischiavano alla verità. Gli spiriti tremavano in quell'ansietà sociale, come le foglie all'avvicinarsi dell'uragano. La tensione elettrica era tale che in certi momenti il primo venuto, un ignoto, faceva luce. Poi ritornava l'oscurità crepuscolare. Ogni tanto, profondi e sordi brontolii potevano a far giudicare della quantità di folgori accumulate nelle nubi.